Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, capito? Rimandi, rimandi con l'intenzione di applicare ancora, questo è importante, non va in tempo, continuo e comunque, adesso ne facciamo tre per convenzioni, ma la mentalità è che si potrebbe continuare più che non arriva al resto, che è buono. Prima possiamo spessare soitte, la prima dobbiamo spessare soitte. Sesto è stesso, ora, un po' la prima, un po', decidiamo, cambiare, cambiare. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. La distanza è soggettiva. Per esempio di questo, tutti i altri. È diversa, ma per attaccare... ... 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 Questo è un po' di felice, questo è un po' di felice. Dobbiamo stare qui, per fare un po' di felice. Questo è un po' di felice, questo è un po' di felice. Questo è un po' di felice. Si? più felice, più tranquilla, più felice, è la realtà di cui non possiamo fare quello che vogliamo. Allora, per poter chiedere, dobbiamo studiare. E andando su. Ok. Ancora. Un pochino più veloce. Eh, too fast, too much. Grazie. Ok. Allora, è lo stesso concetto di prima. Parata verso il brazzo, lì siamo uno tosse in piedi, no? Nel caso in cui non sentite lo yamè, non fermarsi. Dio, si. Ok, non c'è, no. We must... Ok, watch. One, back, via. Two... Immaginiamo che sul primo, sulla prima situazione non ci sia lo Yamé dell'articolo. È lo stesso principio di prima. Tutto questo è mosso, come abbiamo detto, da una forte tensione di volontà, cioè da una grossa intenzione e motivazione a fare punto, ad entrare nella guardia dell'avversario. Questo è fondamentale. Per cui, su una risposta che probabilmente non è andata a segno, come noi speravamo, vedete? Si assorbe leggermente la tecnica. Senza andare avanti, assorbendo leggermente la tecnica sul primo, questo è il sistema di difesa, dopo di che si va avanti, ecco, sullo stesso concetto di prima, ad inseguire immediatamente la peggiazza. Il grande problema, il grande problema, il grande problema, quando l'attacco si va avanti, questo è l'opportunità di fare, perché è natural per usare a fare, com'integgi contatt房zione, e poi ci sta stagfilando una combinazione, Il momento, questo è un aspetto abbastanza delicato, poi si sviluppa anche su altri tipi di tassi che abbiamo dell'attacco, sta mettendo in risalto il fatto che l'avversario è particolarmente debole nella sua guardia sul momento del liquide, cioè quando dopo aver tirato la tecnica, dopo aver effettuato l'attacco, torna indietro con il braccio stesso. Quello del ritorno, tutto il tempo che appartiene a quella situazione di movimento, costituisce un momento estremamente vulnerabile nella guardia dell'avversario, ed è lì che lui avanza, per cui oltre a seguire il corpo, segue anche il braccio che torna, è quello il momento di andare. Allora torniamo sempre sul concetto della distanza e del tempo. Non state con la guardia troppo libera, cerchete di occupare spazio, questo è il concetto. Piccolo spostamento indietro, poi naturalmente la confuglia. Ma l'aspetto principale che vuole essere messo in risalto è proprio il secondo, e cioè il fatto di intervenire seguendo l'avversario e quando, soprattutto. insieme le braccia si muovono, uno para, l'altro aggupisce. Uno, con non con l'anca indietro, e poi subito indietro. Vedete quando lui fa questi piccoli spostamenti ed avanza poco perché lui sta indietreggiando poco, per cui adatta il suo spostamento in avanti in relazione alla distanza che indietreggiando copre l'avversario. sempre uguale. Avete capito? Domande? Ah, non forse. Adio, forse. Ok, um, same, relax. Ok. Have to be relaxed. Dei da frente. One person, Asha Kraya. Una persona fa la spazzata. Ok. Asha Kraya, or here, or there. Ok, this person counters with Asha Kraya. No. Just a very light. Ok, again. They're not counters, definitely. One kick. Yeah, stop, yeah. Asha Kraya. Only with kick and punch. No. Just... Yeah, for reaction. Solo per la reazione. Forse? L'alcunio o calcio? Ah, ok. Must be... Must be... This out here. Give me a watch, yeah? Change... e a volte... non... 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 io lavoro per lui e... ok... more relax... non... non... just relax... come on, le scram... cambio, campagna e... non... Grazie. So from here... Ok, ok? Piano... ... ... ... ... ... ... ... Ok? So in it real? Wo Same? ... ... Not... No Ok, not... No, no, è troppo tardi. Musiamo andare a Pavanca. Pavanca. Ok, ok. Ok, Gakuzuki finito. Oh, sì! No, ok, 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 ok. No, ok, ok. No, 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 è possibile. So, non questo. Non questo. Non questo. No, ok. E… Le fumo. E il piano. I il piano. Non, 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 è. No, non, non, è. No, è. No, non, è. Non. È. È, è. And head, head, head position, head position, head position, head position here, we want here, we need an issue, yes, any questions, new thing now, this arm hurt, yes, this control, yes, I don't understand. Ah, no questions. The attacker, does he try to aim at Du Bois' face? He tries with non-competition, non-attacking. No, here, here, there, 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 no, here, back control, no more questions, back control, okay, let's go, Jesus Christ. Timing, timing. Okay, the people. Timing, no, we go, the attacker, yeah. Timing. We've done this, the muscles look here, the bird look here. We're done in front, so we're done. Timing, no, and timing and distance. Timing, no, and timing. Yes, the first one, the second, must have confidence to go forward. He attacks, he's the man, 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 he's the man. Oh, it's your man. Because, if here, it's dark. Here, he's the man, yes, he wants to run, no? So, it's dark, yeah? One, too late. You have to go. You have to pick. Yeah, yeah, yeah. And, what is there? Yeah, yeah. One, finish. Well, yeah, yeah. Many people, we don't see the two down. Many people, we don't see the two down. Many people, we don't see the two down. But we're sure to go down. Yeah? So, we have two, 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 two emphasis. Yeah, yeah. For the attack. The finish, the finish, the finish product, the finish is, one, this is good. This is good. With intermedia, warm intermedia. Not finished. Then, finish now. Yeah? But the truth, important, is, is the distance, and it's to relax. Much of here. And move. And here. It's the basic principle of community. No distance, no timing. I don't want to buy it. Yeah? So, we must have this first. You have to tell your partner the crow. Yeah? Yeah. For me, this is, 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 there you go. I don't like that, we have to. Here is, education. Here is, here is, yeah, it's good. So, here, here. You must, as you see, go. Don't think maybe that, go, go. Is it mischievous or problem? So, tempismo, decidione. Appena parte l'attacco, con decidione, fare botto attacco. If I have another two minutes, I want to change. OK. OK, good. OK. I want to make my fingers good. Yeah, it's better for this side. Maybe he, yeah, you have to, not... Yes, I'll have to pick for the camera, because... No, 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 no. No, 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 no. Ok, qui non è per colpire, però per distrarsi. No, no, no. No, no. No, no. E-end. More of this. More of this. More of this. E-end. Yes. So you want them here. You want one, up, two, down. You must have three. Three. One, two, down. Not anymore. Here. Because here. Here you get the booty, yeah? So first we want here, here. 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 One. Here. And look. They get the booty, yeah? Not here. This. This is very good. Here. Here. In the camera. Here. Here. Go. Come on. Hello. Come on. Yeah! Here. Grazie a tutti.